Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura? Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di togliarsi i capelli. Ah no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma... parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. La libertà è la libertà. La libertà è la libertà. E la libertà è la libertà. E la libertà è la libertà è la libertà. La libertà è la libertà. D'orate bene. Fai attivarsi. Liberarei. Salvatare. Non voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato e bada non dire mai a nessuno che non è libero perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare per dimostrarti che lo è certo ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale ma quando vedono un individuo veramente libero allora hanno paura